8 novembre 1965 muore emma grammatica nata nel 1874 debutta come attrice teatrale accanto a eleonora duse dopo una vita sui palcoscenici dedica gli ultimi anni della carriera al cinema e alla televisione è nelle sorelle materassi con la sorella irma e in miracolo a milano di vittorio de sica